Per favore, chiedimi quello che vuoi. Allora, Fulvio Balestra, la partita del cuore, capitano della squadra, portiere, abituato a parare i rigori. Abituato a contare i gol che mi faranno, speriamo bene di non prendere troppo i rigori, è la nostra meta arrivare ai rigori. Ecco, io ho visto i giocatori in campo, mi sto incrociando anche il Sina, che vale tutto il coraggio. Il Sina che giocherà, giocherà tutto il tempo che ritiene, che ce la farà soprattutto. Ma guardatevi la coreografia, all'inizio saremo tutti al centro del campo in un cuore disegnato da noi per Sergio e quindi saremo tutti presenti al centro del campo. Tutti dentro il cuore, le aspettative che hai. Quanto riguarda le partite, abbiamo provato a corrompere gli altri ma non ha funzionato. Noi saremo la squadra Materasso, speriamo bene. Oltre quanti gol stanno la delusione che prenderai? Oltre 5 metri in 6 minuti. Auguri!